Presidente Salvini, grazie intanto di questa intervista all'Agenzia Vista. Dov'è? Partiamo subito dall'attualità, i recovery font di cui sta parlando, sta discutendo l'Europa, la proposta della Commissione, lei cosa ne pensa? Dopo le parole vediamo i fatti, ci sono diverse vie per ricostruire il Paese, qualcuno vuole far debito con Pechino, qualcuno vuole far debito con Berlino, io preferisco insieme a tanti economisti italiani chiedere che il futuro dell'Italia sia in mano ai italiani. La fase 2, stiamo per ripartire, secondo Salvini come bisogna ripartire? Da dove bisogna ripartire? Dalla libertà, da una totale libertà di impresa, libertà del singolo, l'azzeramento di tutta la burocrazia, di tutti i controlli preventivi, silenzio assenso per le domande nei comuni, via il codice degli appalti, tutta la trafila ANAC, Corte dei Conti, Sovrintendenze, TAR, totale deregulation, la rivoluzione liberale. Lo scontro tra il governo e le regioni, in particolare lo scontro con la regione Lombardia, c'è chi dal governo ha detto poi finita l'emergenza faremo le valutazioni, si potrà forse pensare anche un commissariamento, addirittura si è detto, come si è comportata la Lombardia in questa emergenza e cosa pensa di questo scontro? La cittadina Lombarda, sono orgoglioso di come la comunità Lombarda, il sistema sanitario assistenziale Lombardo ha reagito a una bomba che ci è esplosa in casa e che non ci siamo andati a cercare. È chiaro che finita l'emergenza sanitaria dovranno emergere le responsabilità. Prima liberiamo le corsie di ospedali e poi andiamo a guardare chi ha fatto e chi non ha fatto e temo che a livello centrale, statale, in molti non abbiano fatto. Però non mi interessa aprire i processi adesso. Lei ha chiesto un intervento anche sulle cartelle esattoriali, di cosa si tratta? Che fra le disattenzioni del governo c'è il fatto che dal primo giugno, stando ai dati dell'Agenzia delle Entrate, rischiano di partire 8 milioni e mezzo di cartelle esattoriali per famiglie e imprese italiane. È una follia. Chiediamo pace fiscale. In questa grave crisi economica, forse dati del disoccupazione in crescita, PIL in calo, c'è chi ipotizza un esecutivo di pace, un esecutivo di unità nazionale? Lei sarebbe favorevole di un esecutivo del genere? Noi stiamo lavorando per salvare il Paese e ricostruirlo. A proposito di disoccupazione, però, non sono queste le idee che stiamo sentendo, che fanno ripartire il Paese. Ad esempio, i no della CGL stanno bloccando interi comparti, i voucher, bisogna ritrodurre i voucher in agricoltura e in turismo piuttosto che fare sanatorie, però la CGL e il governo dicono no. Per il momento lavoriamo con questo governo e fino a che c'è l'emergenza sanitaria facciamo le proposte a questo governo. Se poi lei mi chiede se questo governo rappresenta il meglio, il futuro dell'Italia, la ricostruzione, la rivoluzione liberale, la libertà di impresa e la rinascita, difficile da pensare. L'agricoltura c'è chi ha ipotizzato addirittura una sanatoria per i migranti. Le marricate a distanza con mascherine e guantini, dentro e fuori dal Parlamento, piuttosto reintroduciamo i voucher, facciamo lavorare disoccupati, cassi integrati, studenti e pensionati. Cari amici, è davvero con grande piacere che rivolgo un caloroso saluto a tutti coloro che oggi parteciperanno a questa straordinaria maratona. Con la vostra voce, la vostra competenza, il vostro ascolto, farete vivere la giornata mondiale del libro esplorando i capolavori della letteratura. Ringrazio la Fondazione De Santis e il Centro per il Libro e la Lettura per questa importante iniziativa. Sarà un lungo appuntamento virtuale. In questo tempo, in cui non è possibile incontrarci per dibattere, la tecnologia può dispiegare tutto il suo potenziale comunicativo, amplificare le possibilità di condivisione, farci riscoprire comunità. Parlare di libri significa non solo soffermare la nostra attenzione sul testo, l'autore, il lettore, ma anche comprendere che i libri rappresentano qualcosa di più. Sono la nostra carta d'identità, sono uno strumento irrinunciabile per promuovere e diffondere il valore di una cultura universale. Grazie a tutti.